Buonasera, salve a tutti, questo è il terzo video forse, dedicato alle domande. Mi scrivono, molti di voi mi scrivete su Facebook, Instagram e anche sul canale. Oggi volevo prendere alcune domande che mi avete mandato proprio sul canale YouTube. Andrea, Andrea mi chiede, ciao Lerio, volevo chiederti se è utile per imparare a improvvisare, ricopiare e studiare soli di altri musicisti, come ho fatto con il tuo video, magari a velocità ridotta, oppure è meglio improvvisare da soli affidandosi all'orecchio. Ho provato a farlo, ma non esce niente di interessante, nel senso che conosco le tecniche, ma non riesco a imparare il linguaggio dell'improvvisazione jazz. Allora, io cito sempre quel film, cito i fumetti, film, perché secondo me sono i libri di oggi, i saggi di oggi. In Neo Robot ci sta lui, nel film con Will Smith, molto bello, lui fa le domande a questo ologramma del creatore dei robot e il creatore continua a rispondere, devi fare la domanda giusta, devi fare la domanda giusta, questo è il senso. Quindi a volte l'errore sta nella domanda. Quindi la prima cosa è che non sono due cose in antitesi, tutti quelli come noi che abbiamo imparato a fare questa cosa hanno fatto entrambe le cose. Imparare solo i soli, smontarli, prendere le frasi, imparare, trasportare, eccetera, eccetera, ti fa diventare uno che parla con frasi fatte. Questo è il concetto. Quindi la mia raccomandazione è quella di sviluppare prima di tutto un'immaginazione melodica. Piccole frasi, allenarsi sulle basi, lente, come abbia fatto vedere molte volte, come fanno tutti i miei allievi nell'accademia. Una volta che hai un'immaginazione e quindi hai un pensiero musicale, poi acquisire altre fonti. Questo che cosa significa? Significa che prendere la frase, smontarla, lavorarci, provare a cambiarla, a modificarla. Questo secondo me è il percorso corretto. Ora tu dici perché conosco teoricamente gli approcci, gli spin, tutte queste cose qua, però non riesco poi a fare delle cose. È come un bambino di quattro anni che si chiede come mai non riesce a fare un discorso coerente, un discorso come non riesce a parlare di politica. Non riesce perché non ha ancora la capacità, è molto semplice. E poi soprattutto nella musica, e in particolare in queste cose qua, il modo in cui le usi, il modo in cui le metti ritmicamente, il modo in cui cadi o non cadi sulle note, fa una differenza enorme. Quindi non è semplicemente che sapendo che ci sono quattro meccanismi melodici, uno poi fa il fraseggio jazz. Non è così, a parte che poi sul fraseggio jazz ci sarebbe da parlare, però insomma intendiamo il fraseggio bebop, quello là che piacerebbe a tutti quanti, Parker, Bill Evans, eccetera. Non è così, quindi bisogna fare questo, bisogna sentire soli, trascriverli, bisogna sviluppare prima di fare questa cosa una forte immaginazione melodica e io ve lo continuo a dire, bisognerebbe avere una persona che ti guida. Ma questo è, perché noi nella crescita tendiamo a usare cose che già sappiamo fare, siamo compensativi, quindi è difficile, anche se tu ti studi la grammatica inglese, ma se non parli con un inglese, se un inglese non ti cambia la pronuncia, tu parlerai sempre con la pronuncia, Ah, how are you? Parlerai così, perché quei suoni non ce li hai proprio, devi lavorare a fare quei suoni, e così vale anche per il linguaggio musicale. Raffaele invece mi chiede, non mi è ancora chiaro, dopo aver seguito qualunque lezione, spunti, eccetera, se ho capito come funziona o no, cioè lui non ha capito come funziona. Seguendo i video mi sembra tutto chiaro, funzionale e funzionante, nell'applicazione pratica mi si aggrovigliano, aggrovigliano. Le dita, ma soprattutto le idee. È grave? No Raffaele, non è grave, è normale, cioè tu stai cercando di impostare, rimpostare la visione pianistica come metti le mani sul pianoforte e non è assolutamente semplice, io ci metto anche mesi a far cambiare questa cosa, perché quando uno suona, vabbè musica classica, legge e quindi voglio dire le mani vanno dove devono andare, non c'è problema, ma quando uno inizia a suonare da solo e cerca di costruire delle cose, usa dei moduli pianisti, quello dell'accordo, solamente l'accordo. Per esempio fa questa cosa qua, non gli verrebbe mai di fare… Perché in questa visione le cose sono divise sulle mani in maniera diversa, quindi no, è normale e devi capire bene, guarda anche nei video miei, come organizziamo il materiale, vedrai che piano, piano, piano le cose vanno meglio, ci sono i video sull'armonizzazione, quello a quattro voci o cinque voci, dovresti seguire quel percorso là. Poi domande varie, una bellissima, quanto devo spendere per iniziare a suonare, che pianoforte devo comprarmi per avere uno strumento dignitoso? Questa è un'altra di quelle domande dove su Facebook per esempio si potrebbe scatenare un putiferio con risse e denunce. Ci sono molti che insistono ancora su questa cosa del piano acustico, il piano acustico, il piano acustico… O che se dici, no, il piano… Eh, ma il piano acustico non sai che suono ha… Allora, io ho avuto l'immensa fortuna di studiare su uno Steinway modello B, un metro e 92, una Ferrari della musica e una Ferrari del pianoforte, quindi il piano suono e il pianoforte lo conosco bene e forse proprio perché lo conosco il verticalino semiscordato perennemente con… Io non l'ho mai trovato interessante come sono, quando oggi ci sono sicuramente dei piani digitali stratosferici, di Yamaha, Nord, che già ce l'hanno i suoni dentro, ma la soluzione ancora più pratica è quella di prendere su un bel computer, ho avuto un bel macchino, 7-800 euro, 1000 euro, che la domanda è quanto devo spendere, quindi… Ti compri una bella master keyboard, 7-800 euro, con una bella tastiera e ti compri un plug-in, 150 euro come quello che uso io, K-Scape, che mi pare che costa tanto, c'hai un suono atomico di pianoforte stratosferico in mille varianti con i piani elettrici, con la roba… Puoi suonare quando vuoi, come vuoi, ti metti in gonfia, sembra che stai a San Carlo… Io credo che questa sia la soluzione migliore. Poi se uno deve fare tecnica, pianoforte classico, il diploma di pianoforte, e allora forse un pianoforte acustico può aiutare, ma dovrebbe essere un coda. e stiamo parlando di soldi notevoli. Quindi io consiglio una buona master con un bel computerino e un bel plug-in di pianoforte. Mi esercito, ma i suoni della mia tastiera sono orribili, come posso fare? Ho cambi tastiera, ho lavori sui suoni. E questo è una… Io trovo ancora difficile da capire perché uno si affeziona alle tastiere, quando su un computer puoi avere suoni senza fine, proprio cose meravigliose. Perché no? Ripeto, io faccio i video con K-Scape. Ora, prima avevo la Yamaha P90, ora ho messo la Nord perché è più agile, però insomma tastiera… Funziona benissimo. Perché no? Io consiglio questa cosa qua. Conosco la scala maggiore, basta per improvvisare? Oddio, anche questa è una bella domanda. Sì, voglio dire, se vuoi usare sulla scala maggiore. Scala di Fa. Con la scala maggiore si possono fare cose meravigliose. Se però vuoi suonare… Ovviamente la scala maggiore ha quel portafoglio di suoni, ci possono fare quelle cose là. Se vuoi fare robe diverse, un po' più jazzy, fra virgolette, e devi sapere anche un altro paio di scale, come già detto in molti video. Quante altre scale servono? Una domanda dopo. Ok, c'è un video che tra parentesi è andato fortissimo, stava quasi a 80 mila visualizzazioni, dove io spiego questa cosa delle tre scale. Fondamentalmente, per improvvisare bene, roba bella, roba divertente, bastano fondamentalmente tre scale, che sono la scala maggiore, la scala minore melodica e la scala diminuita. Sono le tre scale con cui si possono veramente fare un sacco di robe. In più, se ci vuoi mettere un fatto un po' più blues, un po' più pop, anche un po' più moderno, perché le pentatoniche, come abbiamo visto, si suonano anche nelle improvvisazioni moderne, anche la pentatonica. La pentatonica, una. La maggiore e la minore, però la pentatonica. Secondo me queste bastano e ci stanno tonnellate di musica fatte con questa roba. Ok? Ovviamente non sono solo queste, poi ci sono degli artifici melodici, bisogna sapere che cos'è un approccio cromatico, bisogna sapere che cos'è un circondamento. Però come scale? La domanda, la questione è che non bastano le scale, devi sapere anche gli accordi. Anzi, prima gli accordi, gli arpeggi e poi le scale che riempono questi arpeggi. Che cosa sono i modi? Domanda notevole a cui, secondo me, già abbiamo risposto svariate volte, però lo ridico. I modi semplicemente sono scale diverse. Altre scale. Quindi, la scala maggiore è tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Quella di Do. Ok? Ora, se inizio a cambiare queste note, alterare, che faccio, non so, abbasso la settima. Vedete che vedi che è un'altra scala, no? Alta scala. Questa scala è una scala che ha un nome, che si chiama misolidia. Posso alzare la quarta, per esempio, mettere la quarta più. C'è un suono un po' napoletaneggiante. Questa è una scala che si chiama Lidia. Io a volte mi confondo con il nome del C. Questo è tutto. Sono scale diverse, ok? Ho fatto un video per spiegare com'è che poi ci si incasina su questa cosa, perché se uno poi la prende dalla scala maggiore, la piglia, la taglia a fette, poi non si ricorda dove deve partire, secondo me, a mio modesto ma mai sommesso parere, è un casino per me. Io, fino a quando facevo questa cosa, non me la sono mai riuscita a imparare. Poi a un certo punto ho capito che in realtà le potevo pensare tutte quante, da do, do maggiore, do ionico, do lidio, misolidio, scusami, vedi, mi sbaglio. Do lidio, do dorico, ok? Abbasso la terza, abbasso la settima, escono fuori altre scale. Questo è tutto. Servono per improvvisare, già l'abbiamo detto nell'altro video. Non tantissimo, non tantissimo. Si può improvvisare anche con i modi, i modi sono un mondo interessante, un giorno mi devo decidere a fare un video su questa cosa, ci hanno delle sonorità, ma per imparare a improvvisare, poi nello stile bebop, questa roba qua, i modi non servono a granché. Questo è il discorso. I pezzi in minore si analizzano come quelli in maggiore solo che si pensa al sesto grado. Giustamente lui dice, no? Il sesto grado di una tonalità maggiore è un accordo minore, in do maggiore e la minore. Se io vedo un pezzo in la minore, posso pensarlo in do maggiore e la minore, scrivo sesto grado e vado avanti così con le dominanti non funzionali, funzionali, detemporane, seconda, sab, eccetera, eccetera. Allora, io non faccio così, però ci sono persone, anche i miei allievi che ragionano così quando analizzano un pezzo in minore, ci sta questa cosa, capita. Io penso in tutto un altro modo, però è un discorso veramente che merita due o tre video solo lui, io penso in tonalità minore, ovviamente non esiste una scala minore che puoi armonizzare che fa uscire tutte le funzioni armoniche che ti servono e quindi bisogna ragionare con un insieme di accordi nel mondo minore che fanno quelle funzioni. Un discorso un po' complicato, ci faccio un video, faccio un video. Non riesco a suonare contemporaneamente mano destra e mano sinistra, o penso a uno o penso all'altra, come si fa a mettere insieme? Io mi ricordo sempre una cosa bellissima, una battuta che racconto sempre. Durante una lezione di armonia, detti delle dispense, e chiese a un mio allievo simpaticissimo, di leggere questa paginetta e quando finì di leggere gli chiesi gli chiesi, scusami, allora che cosa hai capito? E lui con uno sguardo disse, maestro, io ho leggo, ho capisco, due cose insieme non le posso fare, questa è una cosa meravigliosa. Cioè che cosa voglio dire? Che in realtà mano destra e mano sinistra sono due mani, sono due cose diverse, si muovono spessissimo, se vuoi fare le cose in maniera molto diversa. Quindi io consiglio sempre la cosa più semplice, cioè di prima di tutto guardarsele un attimo a mani separate, far capire alla destra che deve fare e alla sinistra che deve fare. E poi provare a metterle insieme il grande segreto, che poi lo diciamo tutti, lo diciamo sempre e poi nessuno lo fa, studiarli lentissimi. lentissimo, ricordate che andare lenti è la maniera più veloce di andare avanti, questo è. Vai lento, vai avanti, corri, 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 non fai un cazzo di metro. Ho detto una parola tecnica, scusate, ora vediamo se la possiamo cancellare. e prova a andare a tempo e con il metronomo mi sembra di esserci ma non ne sono sicuro. Come si fa a sapere se si fa a tempo? Semplicissimo. Se vai a tempo il metronomo non lo senti, perché sul metronomo suoni e quindi il metronomo non lo sente. E quando inizi a fare questa cosa e ti aggiusti piano piano, ci vuole tempo per diventare precisi ritmicamente, inizi ad avere una sensazione fisica, abbiamo fatto anche un video sul ritmo, una sensazione fisica che ti permette di muoverti in un modo che ti permette di essere costante nel tempo. Questo è tutto. Ultima domanda per oggi, bellissima. Ascolto Miles Davis e non mi piace, posso imparare a suonare jazz lo stesso? Assolutamente sì, perché il jazz non è Miles Davis, il jazz non è il bebop, il jazz non è Sony Rollins col treno e questa roba qua. E io ti potrei confessare che ci sono tanti, 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 mamma santissima del jazz che a me, diciamo, non tanto li digerisco. Te ne dico uno proprio così per 500 iscritti al canale. Sonny Rollins, per esempio, a me proprio diciamo non è che proprio mi fa impazzire, ok? Per dire eh! Riconosco la sua grandezza, lo sento che fa cose straordinarie, però se mi devo mettere un disco di Sonny Rollins, non me lo metto, non me lo metto, mi sta un po' animatico. Per esempio io adoro Coltrane, adoro Stanghez, Phil Woods, mamma santa, un po' pesantiello anche lui, cioè sembra morso da una tarantola, ma questo per dire eh! Ci sono pianisti, per esempio io Ciccorea, lo ammiro, me lo sono studiato perché fa cose incredibili, ma proprio così, un paio di dischi adoro di lui, Now He Sings, Now He Sobs, Acoustic Trio, ma proprio due, quindi assolutamente no, non c'è bisogno che ti piaccia Miles Davis. Poi Miles Davis in particolare, diciamo, è uno insomma, ha attraversato tutti i periodi, quindi se uno dice quale è Miles Davis? Quello di Kent of Blue, quello di Beaches Brew, quello di… capito? No, vai tranquillo, aggiungerei che il jazz non è quello che fa Miles, il jazz è l'atteggiamento con cui Miles fa musica, libertà, immaginazione, improvvisazione, interplay, capisci? Quindi l'atteggiamento è uno ed è quello che dovresti cercare di assorbire se vuoi suonare jazz, il tuo jazz, quello che per te è jazz, quello che è la tua libertà di espressione, ok? Non copiare a lui. Trovo che questa cosa delle domande sia interessante e poi soprattutto magari scrivetemi le domande nei commenti, così magari proprio rispondo alle domande che mettete sul canale. Con questo vi auguro una buona serata, buon divertimento a esplorare, a ragionare e ci vediamo al prossimo video, come sempre. Noi,!! Noi, no, no… Noi, no, no! Noi, no…